Siamo giunti a Samhain ragazzi e per me Samhain, lo chiamerò Samhain, scusatemi se si dice così o non si dice così, non è importante, per me Samhain non è solo il periodo in cui vanno onorati i defunti, cosa che si può fare anche durante l'anno, non è solo il periodo in cui si onorano i defunti, si parla di velo sottile o nullo tra i mondi, si parla di simbologie, di corrispondenze, sono cose che io, ok, va bene, nel senso che ne ho parlato tantissime volte e non ne voglio parlare anche oggi, anzi vi metto qui sopra gli altri due video relativi a Samhain, uno era proprio su simbologia, significato, corrispondenze e l'altro invece era, se non erro Samhain non dimenticate questa cosa, che è una cosa per me molto importante da ricordarvi, con questo video qua io voglio parlare di altro, perché per me Samhain è anche altro. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Lu e oggi vi parlerò di questo periodo dell'anno Samhain appunto, che come dicevo prima per me non è solo occasione per parlare di defunti, del velo che è nullo, per me Samhain è un momento, uno dei tanti momenti che uso per guardarmi dentro e per lasciare andare tutto ciò che non mi serve più, un po' come quando si fa spazio in casa e ci liberiamo di tutto ciò che non ci serve più, e io sento il bisogno di farlo anche con ciò che mi porto dentro, e questo periodo dell'anno con Samhain, la mia pratica diventa un vero e proprio rito di bando, ma non nel senso tradizionale, è un atto di liberazione da tutto ciò che non mi serve più, che non mi interessa più, sia dentro che fuori, e diventa anche un momento di coccole e di abbracci per me stessa, in modo da riuscire a prepararmi a una nuova fase, che sicuramente sarà molto più leggera e autentica. Come sapete il capodanno celtico soprattutto, ma comunque Samhain rappresenta la fine e l'inizio di un nuovo ciclo, e io voglio iniziarlo molto più leggera, molto più limpida, molto più pulita e molto più autentica. Questo periodo è bellissimo, è bellissimo ricordare i propri antenati, è bellissimo onorare i propri antenati, e vivere nel quotidiano sentendo questa energia così forte, così viva, è bellissimo, ed è un periodo che probabilmente per molti è molto più semplice sentire le proprie radici, e quindi riconnettersi con gli antenati, ma per me oltre a questo è anche un periodo in cui devo fare un reset interiore. Sento proprio questo richiamo a fermarmi, a guardarmi dentro e a chiedermi che cosa mi porto dentro che non mi serve più, e cosa invece voglio continuare a portare avanti. E queste cose fanno parte anche un po' del lavoro che una strega fa su se stessa, e le streghe non è che devono solo decorare la casa, preparare l'altare, io sono strega perché in questo periodo devo ricornettermi con i miei antenati, va bene anche questo ragazzi, però sono dei gesti che comunque delle cose, delle pratiche che vanno bene, per carità le faccio anche io, non è quello il punto, la sento anche io questa energia, questa voglia di fare, ma essere strega, e quindi in determinati periodi come questo qui, credo che significhi anche sapersi guardare dentro, accettare le proprie ombre e capire cosa si vuole davvero. E ogni autunno, in genere, proprio in questo periodo appunto, mi prendo un lungo momento nell'arco della giornata, ogni due o tre giorni, quando riesco, per fare appunto questo lavoro di bando personale, che mi aiuta a liberarmi da ciò che mi appesantisce, e da tutto ciò che non mi rappresenta più, è come un po' pulire il giardino dell'anima, togliere tutte le erbacce, per fare spazio magari a quello che voglio davvero e a quello che di bello arriverà, ho fatto spazio, puoi entrare alto. Quest'anno ho rifatto il mio altare, non è ovviamente un altare tradizionale, o magari imposto da qualcun altro, è uno spazio che ho creato semplicemente per me, al di là di antenati, via dicendo, è proprio uno spazio che ho deciso di donare a me. Ho messo una candela nera, che per me rappresenta appunto l'introspezione, la verità, è un piattino con un po' d'acqua per, come una sorta di ristoro per gli antenati. L'acqua è acqua semplice, ma in quel momento è lì per loro, e queste cose le faccio non perché me le abbia dette qualcuno, ma per me ha senso, ha senso farlo, e se ha senso per me va bene, perché non è che devo per forza obbligatoriamente seguire quello che mi dicono gli altri o mi consigliano gli altri, perché anche mettere una candela, un piattino, questo è per gli antenati, la candela è per me, la accendo, e non capire cosa sto facendo non ha senso. La stessa cosa quando mi dicono o sento dire fate questo, fate questo, fate questo, fate questo, e fate questo, come l'ho fatto anche io nel primo video dove consigliavo le corrispondenze, il significato, come fare l'altare. Però come per ogni cosa bisogna comprendere nel senso il carico forte di energia, quello che, non l'intenzione, quello che stiamo compiendo, allora lì prende senso, perché sappiamo quello che stiamo facendo, quindi veramente fate la cosa più semplice che vi viene fare, non dovete obbligatoriamente fare quello che c'è scritto sui libri, insomma. E io faccio questo, almeno quest'anno ho deciso di fare questo, ho messo lì su quella sorta di altare che ho, ho relegato un piccolo spazio per una candela nera e un piattino con l'acqua. Il piattino d'acqua sarà per gli antenati, non ho messo foto quest'anno perché non mi andava di mettere foto. Dentro di me so che quello è per gli antenati, la candela nera servirà anche a me. E ogni autunno, come dicevo prima, sento la necessità di fare questa pulizia. È come se fosse proprio la terra stessa a parlarmi. Alleggerisciti, lascia andare. Allora che faccio? Mi siedo davanti a questa candela, che accendo ovviamente, respiro regolarmente e sono lì pronta ad accogliere, ad ascoltare. Ad ascoltare quello che ho dentro, ovviamente, al di là di quello che posso sentire, perché a volte capita anche che sento cose che, vabbè, lasciamo stare, questo è un altro discorso. E quindi nell'ascoltarmi mi chiedo, cosa mi appesantisce davvero in questo momento? Quali sono i pensieri, le abitudini che mi stanno trattenendo o mi tengono ferma? Non serve porsi domande particolari, domande complicate o fare grandi discorsi o mega rituali. Bastano veramente semplici domande che possiamo chiedere a noi stesse e dentro di noi troveremo le risposte. È tutto veramente molto semplice e tutto avviene in maniera naturale. E questo per me, questo periodo, è un momento di vera introspezione. È un momento per abbracciare me stessa, per darmi anche il permesso di lasciare andare quello che non mi serve. E talvolta anche le persone che magari non fanno più parte del mio cerchio e che quindi sono indirittura d'arrivo, cioè nel senso non sei più nel mio cerchio, non c'è più niente che possiamo donarci, perché io penso che anche dopo mega litigi con le persone, se c'è qualcosa che ho potuto imparare da quella relazione, parlo di amicizia, o da quello che ci si è dato negli anni, nei mesi, insomma io ringrazio comunque. Oltre a restarci male e tutto il resto, e vabbè ma quello è un altro discorso, ora ringrazio anche per quello, quello che di buono c'è stato, no? Però arriva il momento in cui bisogna toglierle dalla nostra vita, allontanarle dalla nostra vita, se sono persone che non ci fanno stare bene, che dove non c'è proprio niente più in comune. Ecco perché ho parlato di bando, perché elimino, allontano, mandisco anche vizi, abitudini, situazioni che non mi piacciono più, contesti in cui non voglio più esserci, e anche le persone, persone con cui non voglio più avere a che fare, persone che sono rimaste così in sospeso nella mia testa, nel mio cuore, ovviamente, persone che magari non sento più, ma che comunque porto ancora dentro, ma il rancore, la vendetta, anche quelle cose che so, so che mi pigliano purtroppo ragazzi, diciamo che una persona vi fa male, dite ah beh non fai niente, no vi resto, cerco di lasciare andare anche quello, perché devo stare tranquilla, perché voglio essere pulita, voglio rimanere, la mia energia deve essere alta, più mi libero dei cose che non servono per la mia crescita personale, spirituale, da strega, chiamatela come volete, elimino perché devo liberarmi alta, volo più leggera e sto a posto soprattutto. E darsi il permesso di poter lasciare andare le cose non è un atto rumoroso, perché vedete non è caotico, creiamo, facciamo, ma è un atto potente. E ogni autunno passo questo periodo ed è come se rinascessi ogni volta un po' di più. Mi sento sempre poi più libera e più leggera e pronta per affrontare tutto quello che di nuovo verrà, bello o brutto che sia. Per me queste sono diventate ormai delle cose naturali, delle cose automatiche, grazie a questo lavoro che negli anni ho imparato a conoscermi, a guardarmi dentro e a fare scelte consapevoli. Ed ho capito anche così quale fosse il mio potere, il mio potere di strega, la mia energia, la mia energia che uso nei miei rituali. Solo in questo modo, facendo un lavoro su me stessa, sono riuscita a comprendere tantissime cose, cose che i libri non mi hanno insegnato. Tutto quello che faccio in questo periodo per me è una sorta di rito di bando ed è una parte essenziale del mio percorso, ovvero questo lavoro che faccio su me stessa è essenziale. Sarà sempre presente perché non è che una strega ha finito. No ragazzi, siamo all'inizio, non abbiamo proprio finito niente. Infatti molti si sentono arrivati, ma dove? C'è un continuo lavoro perché le sfide arrivano sempre, arriva sempre tutto. Quindi bisogna veramente riuscire a lavorare, scendere dentro, comprendere, perdonarci per tante cose, risolvere tante situazioni che abbiamo dentro. Però veramente è un lavoro duro, un lavoro anche doloroso, però va fatto. Questo periodo dell'anno mi ci porta proprio a farlo in automatico, lo faccio anche tanto durante l'anno normale, insomma, normalmente. Però in questo periodo dell'anno mi viene molto più naturale ed è veramente semplice. Si tratta semplicemente di essere onesti e sinceri con se stessi, di affrontare quello che verrà fuori. Va lasciato, va allontanato, va eliminato dalla nostra vita. E come dicevo prima, ovviamente non solo in questo periodo qua. Questo lavoro io l'ho fatto per anni, da anni, e continuerò a farlo. Ripeto, come ho detto prima, non è finito. Non è che, oh sono strega, finito il lavoro. No, si lavorerà ancora di più probabilmente su se stessi. Ma in questo periodo mi aiuta tanto. Lavoro molto su aspetti particolari di me stessa. Il periodo mi aiuta un po' a lasciare andare e a mettere fuori quello che è superfluo, ad allontanare alcuni lati del mio carattere, cioè non ad allontanarli, scusate, a comprendere perché reagisco in un certo modo a certe situazioni. E capisco, cerco di capire, cerco di stimolare la mia mente, insomma, a dire come potrei reagire in modo da non restare io ferita e ferire gli altri. Insomma, faccio tutto questo ragionamento. E diventa veramente un vero e proprio analizzarsi, no? Avere il coraggio di farlo. E così io ritrovo, dopo aver lavorato, che lo faccio in genere, sempre con la candela, l'accendo, mi rilasso, se ho bisogno anche di un po' di musica in sottofondo, ma mi distrae per fare queste cose, magari. A volte la metto, un po' di incenso e state lì, siete voi con voi stessi. Non c'è cosa più bella perché, credetemi, nonostante possa sembrare doloroso a volte, ma è un atto d'amore verso voi stessi. Io dopo mi ritrovo veramente in pace con me stessa. E non lo faccio perché bisogna farlo, bisognerebbe farlo, ma io sento proprio il bisogno di farlo. E ripeto, soprattutto in questo periodo. E se sentite anche voi questo bisogno di alleggerirvi, di lasciare andare tutto ciò che non vi rappresenta più, allora questo è il momento giusto. Non avete bisogno né di un rituale complesso, né di gesti particolari. Basta che vi prendete un momento per voi. Se vi serve accenete la candela, mettete un po' di musica, accenete un po' di incenso. Ascoltatevi e decidete cosa è giusto lasciare andare. Se avete qualcosa da affrontare, affrontatela. Se avete qualche situazione da analizzare, analizzatela. E non perdete tempo, ragazzi, fate. La vita è così breve, ragazzi. E per noi streghe, strega non è fare magia, incantesimo e tutto il resto. Principalmente è conoscere se stessa, quindi il nostro vero potere, la nostra vera energia, rendendola quanto più pulita è possibile. Prendetevi tempo per abbracciarvi, per lasciare andare ciò che vi serve e preparatevi per un nuovo inizio. Questo, secondo me, è il vero potere di Samhain. Un momento di liberazione, di rinascita. È un'occasione per lasciare andare e per sentirmi più libera. Ed è, ripeto, un rito di bando per me. Un rito di bando interiore, che mi aiuta a rimettere ordine dentro e fuori. E questo periodo mi ricorda anche di celebrare la mia autenticità e di far cadere i pesi che portiamo addosso e tutto ciò che non vi rispecchia più. Lasciate andare, lasciate andare tutto. Mi andava di fare questo video perché vi volevo spiegare il perché io l'ho chiamato proprio rito di bando. Lo chiamo rito di bando interiore. Perché ci sta, ragazzi, è bello. Lo faccio anche io, onorare gli antenati. Fare magari qualche piccola offerta per loro. Cioè lasciare qualcosa per loro, ricordarli nei racconti con i parenti, con gli amici. Sono momenti bellissimi. Che amo fare, spesso con mia figlia, a volte con mio marito, con gli amici. È bellissimo. È bellissimo ricordarli. È bellissimo forse sentirli anche più vicini. Ed è bellissimo decorare la casa, preparare l'altare. Il mio video non è contro queste cose, ragazzi, perché le faccio anche io. Però è anche un momento di introspezione. Io in genere, come dissi anche nell'altro video, quattro anni fa mi isolo un pochino dai social, mi allontano un pochino, mi chiudo un pochino, non che non faccia più niente. Però mi prendo questi momenti per me durante l'arco della giornata, due o tre volte a settimana. Quando riesco, insomma, non ho delle date precise. Mi fermo e osservo. A volte vado a rivedere situazioni vecchie, dove ho potuto sbagliare e commettere errore. E se ritengo che fosse un errore, effettivamente cerco di non rifarlo nella prossima occasione. Imparo sempre qualcosa di nuovo ogni volta. Nonostante, ripeto, faccia questo lavoro da tanti anni. Il lavoro su me stessa parlo. Imparo sempre qualcosa di nuovo. E mi sento sempre più libera e più leggera. Se vi risuona e se vi va, vi consiglio di farlo. E niente, ragazzi. Vi ringrazio per essere stati con me oggi. E ci vediamo al prossimo video. Più leggeri, più autentici, più liberi. Me lo auguro per voi e anche per me. Non so quando pubblicherò questo video, ma sicuramente quasi a Samhain. Vi auguro un felice Samhain e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!